Siamo pronti per la neve, Canicattia è pronta, il spargi sale automatico è pronto. Il sindaco di Canicattia che butta il sale per le strade per il popolo canicattinese. Bravo sindaco, questo per la popolazione, Angelo Palermo e Peppe Lubicchino, buongiorno, ci dice la notizia. Sapete che è successo? Perché la neve stamattina era soffice, poi è successo, la neve cata di nuovo, poi c'è fu la gelata e la gelata è stata stamattina alle sette. Perché quando sono uscito io, giravo qualche volta su me stesso. Credo che questo carrello basterà per tutta la città. Il carrello della Desparre basterà per tutta la città per togliere la neve dalle strade. Grazie sindaco.